Così parlò Zaratustra, prefazione, paragrafo 3. Giunto nella città più vicina, ai margini dei boschi, Zaratustra trovò lì raccolta presso il mercato una gran folla. Era stato infatti annunciato lo spettacolo di un funambulo. E Zaratustra parlò così alla gente. Io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto voi per superarlo? Finora tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé. E voi volete essere il riflusso di questa grande marea e regredire alla bestia piuttosto che superare l'uomo? Che cos'è la scimmia per l'uomo? Una risata, di scherno o una penosa vergogna? E proprio questo deve essere l'uomo per il superuomo. Una risata, di scherno o una penosa vergogna. Avete percorso la via dal verme all'uomo e vi è ancora molto del verme in voi. Un tempo eravate scimmie e anche ora l'uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia. Chi tra voi è il più saggio? Non è che un essere doppio e bastardo a metà fra pianta e spettro. Voglio forse dirvi di diventare spettro o piante? Ecco, io vi insegno il superuomo. Il superuomo è il senso della terra. La vostra volontà dica al superuomo sia il senso della terra. Vi scongiuro, fratelli miei, rimanete fedeli alla terra e non prestate fede a coloro che vi parlano di speranze ultraterrene. Si tratta di avvelenatori che lo sappiano o meno, spregiatori della vita, moribondi, essi stessi avvelenati di loro la terra stanca possano scomparire. Un tempo il peccato contro Dio era il peccato più grande, ma Dio è morto e quindi sono scomparsi anche i peccatori. Peccare contro la terra è ora la cosa più terribile, considerare le viscere dell'impenetrabile più del senso della terra. Un tempo l'anima guardava il corpo con disprezzo e tale disprezzo era allora la cosa più alta. L'anima voleva il corpo scavato, orrido e famelico. Così pensava di sfuggire al corpo e alla terra. Ah, quest'anima era a sua volta scavata, orrida e famelica, e la crudeltà era la sua delizia. Ma anche voi, fratelli miei, ditemi che cosa il vostro corpo lascia intravedere della vostra anima. Non è forse la vostra anima miseria e suddiciume e meschino piacere? Davvero l'uomo è un fiume melmoso. Bisogna essere un mare per accogliere un fiume melmoso senza intorpidarsi. Ecco, io vi insegno il superuomo. Egli è il mare in cui può andare a fondo il vostro grande disprezzo. Qual è l'esperienza più grande che possiate provare? L'ora del grande disprezzo, l'ora in cui anche la vostra felicità vi provochi disgusto e così la vostra ragione e la vostra virtù. L'ora in cui diciate che importa la mia felicità? Essa è miseria, è suddiciume, è meschino piacere, ma la mia felicità dovrebbe giustificare anche l'esistenza. L'ora in cui diciate che importa la mia ragione? Brama, essa il sapere come il leone il suo cibo? E' essa è miseria, è suddiciume, è meschino piacere. L'ora in cui diciate che importa la mia virtù? Essa non mi ha ancora reso furioso come sono stanco del mio bene e del mio male. Tutto c'è miseria, è suddiciume, è meschino piacere. L'ora in cui diciate che importa la mia giustizia? Non mi vedo mutato in un carbone incandescente, ma il giusto è un carbone incandescente. L'ora in cui diciate che importa la mia compassione? Non è forse compassione la croce a cui viene inchiodato colui che ama gli uomini? Ma la mia compassione non è crocifissione. Avete già parlato così? Avete già gridato così? Ah, se vi avessi già sentito gridare così. Non il vostro peccato, il vostro facile appagamento grida al cielo, la vostra stessa avarizia nel peccato grida al cielo. Dov'è il fulmine che vi lambisca con la sua lingua? Dov'è la follia con la quale dovreste essere vaccinati? Ecco, vi insegno il superuomo. Egli è questo fulmine, egli è questa follia. Dopo che Zaratustra aveva parlato così, uno della folla gridò «Abbiamo uscito a parlare quanto basta del funambolo, ora fatecelo anche vedere!» E tutta la gente rise di Zaratustra, ma il funambolo, che credeva che quel discorso fosse per lui, si mise all'opera. Paragrafo terzo densissimo di simboli, di significati, paragrafo terzo scritto con la solita maestria, paragrafo terzo da brividi, il contesto, la scena. Zaratustra è giunto a un mercato, torna al mercato come nella Gaia Scienza, nel discorso del folla è tenuto a punto al mercato di fronte a scienziati, illuministi, positivisti, capitalisti, banchieri, mercanti, uomini che pensano di aver ucciso Dio, ma l'hanno uscito con altre divinità nella Gaia Scienza. Qui siamo di nuovo al mercato, c'è una gran folla, in questo caso una piazza, c'è un mercato e c'è l'attesa per uno spettacolo di un funambolo, colui che saprà attraversare la fune che va dall'uomo al superuomo, dalla bestia all'uomo, dall'uomo al superuomo. Questo è il percorso che bisogna fare e solo se si è funamboli si è in grado di percorrere una corda sopra l'abisso, una corda che fa venire le vertigini, per questo la maggior parte degli uomini rimangono ancorati all'umanità, all'essere uomini e non vanno verso l'oltre uomo. Zaratustra di fronte alla folla che attende il funambolo grida io sono qui per insegnarvi il superuomo perché l'uomo deve essere superato, l'affermazione durissima, anche in parte enigmatico, cosa vuol dire superare? E che l'evoluzione continua, Darwin, il riferimento a Darwin, l'uomo deriva dalla scimmia, ma dopo l'uomo ci sarà qualcos'altro, l'uomo è il punto di arrivo, la scimmia suscita nell'uomo risa, se non disprezzo addirittura, così dovrà essere il rapporto tra superuomo e uomo, il superuomo, l'oltre uomo dovrà ridere quando osserverà la miseria dell'umanità. dice qua una dimensione profetica che possiamo noi attribuire ovviamente, che possiamo noi provare anche forzatamente a intravedere, però a mio avviso c'è una dimensione affascinata perché è profetica, perché l'uomo forse nel novecento anziché elevarsi ad oltre uomo fedele alla terra, fedele dunque al piacere, fedele alla vita, l'uomo forse è diventato un ostaggio della vita, un automo, un replicante, è diventato un soldatino, un burattino, l'uomo è diventato un numero, qui ritorna l'antimodernità di Nietzsche. Avete percorso la via dal verme all'uomo, ma vi è ancora del verme in voi, siamo mediocri, l'accusa di Nietzsche è verso la mediocrità dell'umanità, verso la decadenza, il superuomo è il senso della terra, bisogna trovare il senso della terra andando oltre noi stessi, la vostra volontà dica il superuomo che sia il senso della terra, bisogna volerlo, ecco il tema della volontà di potenza, la vostra volontà bisogna voler diventare altri uomini, dunque bisogna percorrere la corda, essere funambuli, bisogna costruirsi le ali, bisogna bruciare, ardere, spiccare il volo, la mediocrità e l'ancora verso l'uomo che ti fa rimanere ancorato all'uomo, bisogna essere fedeli alla terra, amare la terra, il sangue, il corpo, un tempo, un tempo, gli spragiatori della terra hanno esaltato l'anima, l'anima è la via di fuga dal corpo, il cielo è la via di fuga dalla terra, sono il corpo e la terra le nostre case, coloro che vi promettono un al di là, coloro che vi promettono una vita ancorati nella speranza del cielo, ancorati alla purificazione dell'anima, figlia di una rinuncia dei piaceri della carne, del corpo, del benessere del corpo, sono degli avvelenatori che lo sappiano meno perché sono gli avvelenatori consapevoli e dunque bugiardi consapevoli, ma potremmo dire dei neosofisti che vogliono, in un'ottica platonica ovviamente, lasciarti nella caverna sapendo che fuori vi è la luce, oppure ci sono gli avvelenatori inconsapevoli, quelli che sono la maggior parte e così si è, si vive, quelli della vita inautentica del futuro Heidegger, quelli che non sanno perché si debba vivere o cosa sia l'autenticità, il percorso, lo slancio verso la profondità della vita, ma si vive così e così facciamo anche noi, così fanno tutti. Un tempo l'anima guarda il corpo con disprezzo, l'anima aveva il corpo scavo, orro di famigli, come ce lo devono fare del corpo il nostro regno, l'uomo, l'uomo è un fiume melmoso, noi devono diventare il mare oltre uomini, essere il mare che accoglie il fiume melmoso e il fiume si rigenera nel mare, bisogna essere mare per poter accogliere il fiume melmoso, per ridare la vita se non diventiamo oltre uomini, nella mediocrità dell'umanità, ridotta appunto a massa, a numero, ridotta a una ragione potremmo dire strumentale, quella lezione da Scuoli di Francoforte, se diventiamo semplicemente strumenti, funzionalità, se diventiamo appunto mezzi, se diventiamo numeri, se diventiamo merci, come per leggere anche Nietzsche, ebbene noi siamo fiumi melmosi, ok? Non siamo mare, non siamo libertà, non siamo pronti per andare a fondo, a fondo negli abissi per poter poi risorgere e vedere la luce, l'ora del grande disprezzo, bisogna disprezzare l'uomo, l'uomo nella sua mediocrità, l'uomo nelle sue bassezze, l'uomo, guardate che tutti quelli che pensano che l'oltreuomo sia un uomo appunto potremmo dire macio, forte, non capiscono veramente niente di noi, c'è quelli che pensano che l'oltreuomo sia eventualmente non so, il soldato nazista, no, non è quello, non è quello, è un burattino nelle mani di un altro, neanche Hitler l'oltreuomo, va bene, perché scommiamo il campo, no, non sono degli esecutori del male, della violenza, questo è un tipo di Nietzsche ampiamente superata, l'oltreuomo è un oltreuomo filosofico, l'oltreuomo è un oltreuomo filosofico e la mediocrità a marciare tutti con il passo dell'oca, non si è oltreuomini se si pensa di essere la razza bianca oggi che difende la fortezza Europa, non è Nietzsche questa cosa, non è Nietzsche, non è Nietzsche questa cosa, Nietzsche è il cantore di un oltreuomo filosofico, filosofio che non accetta la decadenza che porta con sé una certa modernità e dunque è un autore elitario è un autore elitario perché la maggior parte degli uomini sono esecutori, sono obbedienti, sono decadenti, sono burattini nelle mani di qualcun altro che è l'ultrouomo è colui che sa spiccare il mare aperto sapendo che può trovare la tempesta e non ha paura la tempesta purtroppo non ritorna indietro ad ancorare la nave appunto al porto no, 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 bisogna dire che importa la mia ragione che importa la virtù quella Socratica che importa la giustizia che importa la mia compassione bisogna andare oltre quello che è stato considerato il bene bisogna andare al di là del bene e del male così come finora considerati bisogna rimettere in gioco tutto bisogna rimettere in gioco tutto bisogna trasformarsi in fulmini bisogna essere folli per immaginare un presente un futuro diverso in cui l'uomo possa vivere in cui l'uomo possa vivere bisogna osare in questo caso osare ma osare vi ripeto non è una minoranza che schiaccia una maggioranza bisogna osare la vita ma usare la vita vuol dire guardarsi in tutto profondamente dentro non è incompatibile in questo non è incompatibile Socrate con comunque una 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 morale della volontà e dell'impegno certamente Socrate è il nemico di 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 che per Socrate la virtù porta la felicità invece la felicità è virtù già per Nietzsche ma felicità è già virtù vuol dire essere oltre uomo in oltre uomo è felice ride come uomo liberato perché è nato al di là degli schemi nato al di là degli ordini nato al di là della decadenza nato anche al di là degli stati alla fine è un vagabondo è un nomade del pensiero Nietzsche questo è il primo modo in cui a me piace leggerlo è un vagabondo del pensiero è un vagabondo anche lui la sua vita la Germania la Svizzera il Piemonte Torino e alla fine la sua malattia è anche un po' il testamento il suo essere forse oltre uomo lo porta ad andare oltre oltre le mediocrità oltre le convenzioni e questo paragrafo si chiude con tutta la folla che non ha capito nulla del discorso se non il funambolo che pensa che il discorso sia appunto rivolto a lui e dunque ha trovato Zaratustra delle orecchie pronte ad ascoltare degli occhi pronti a vedere perché il discorso del folle fu nella gascienza rigettato il discorso di Zaratustra qui è rigettato ma ha trovato finalmente un uomo disposto ad ascoltare questo uomo disposto ad ascoltare che ha capito l'intimità la profondità di Zaratustra è un funambolo un uomo che ha dentro di sé la potenzialità dell'andare oltre la paura dell'osare del camminare in modo precario instabile rischioso su una corda così parlo Zaratustra di Zaratustra